incidente stradale nell'agrigentino tra racalmuto e grotte tre feriti governo regionale tempo di primi bilanci dopo i cento giorni d'attività della giunta preseduta da renato schifani parco dubini chiuso al pubblico per problemi tecnici nonostante il divieto in molti superano la barra all'ingresso calta nissetta riunione del comitato per l'ordine la sicurezza annunciate nuove strategie operative per contrastare i fenomeni di legalità a gela applausi per gianfranco iannuzzo al teatro rosso di san secondo di calta nissetta calcio domenica il catania al tomaselli i rossazzurri affronteranno il canicattì con l'obiettivo di conquistare la promozione matematica in serie c ben trovati incidente stradale nell'agrigentino tra racalmuto e grotte tre feriti sono tre i feriti una coppia di fidanzati un ragazzo di 30 anni dell'incidente stradale che si è verificato domenica sulla strada provinciale 15 che collega grotte con racalmuto all'altezza di una nota attività artigianale protagoniste per causa ancora da verificare una seat leon sulla quale si trovavano i fidanzati e la fiat grande punto guidata dal trentenne scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri vigili del fuoco di canicattì e i sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti all'ospedale barone lombardo di canicattì e al santelia di calta nissetta la strada provinciale è rimasta chiusa al transito per molte ore alla guida della seat leon un ragazzo di 29 anni disoccupato con lui una 22enne ucraina residente a marianopoli in provincia di calta nissetta la coppia è stata portata all'ospedale di canicattì mentre al santelia di calta nissetta è finito il conducente della fiat grande punto l'uomo trentenne di racalmuto nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita governo regionale tempo di primi bilanci dopo 100 giorni di attività della giunta presieduta da renato schifani tempo di primi bilanci a palazzo d'orlean da dove si annuncia un tavolo a cadenza mensile per la verifica dell'attuazione del programma di governo nel corso di un vertice durato diverse ore attenzioni puntate sui primi 100 giorni di attività della giunta regionale in particolare sulla relazione del presidente renato schifani ma non solo all'appuntamento hanno partecipato i responsabili isolani dei partiti e i capigruppo l'assemblea regionale delle forze di maggioranza piena condivisione della relazione si legge in una nota della regione insomma maggioranza coesa attorno a schifani tra i temi trattati la vicenda dei precari covid non sono emerse posizioni discordanti sul principio che al personale che ha prestato servizio durante la pandemia verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo in occasione delle assunzioni presso le aziende sanitarie e ospedaliere nel pieno rispetto delle norme costituzionali che prevedono l'accesso nella pubblica amministrazione tramite concorso pubblico si è parlato anche della 19 l'autostrada palermo catania gli alleati di governo hanno proposto di chiedere al governo nazionale la nomina di un commissario straordinario per velocizzare i lavori di manutenzione tutti concordi sull'accelerazione delle procedure per la realizzazione dei termo valorizzatori nell'isola e sulla nomina di un commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in tema di rapporti con lo stato chiesta l'attivazione di uno specifico tavolo di lavoro al ministero dell'economia e delle finanze che possa portare in tempi rapidi all'incremento della capacità di assunzioni per il personale regionale altra richiesta da avanzare al governo nazionale la possibilità di utilizzare i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza per la ristrutturazione degli immobili degli istituti autonomi case popolari e per la costruzione di alloggi popolari di edilizia residenziale straccia bollo impennata di introiti per la regione nei primi due mesi dell'anno incassati 155 milioni di euro nel 2022 la regione siciliana incassato dalla tassa automobilistica 339 milioni di euro si è registrato un aumento del 35 per cento rispetto agli introiti dell'anno precedente numeri con il segno più che crescono ulteriormente se si fa riferimento all'ultimo trimestre del 2022 e ai primi due mesi del 2023 fanno sapere dalla regione si tratta del periodo che ha visto operativa la misura straccia bollo fino al 28 febbraio infatti ai contribuenti è stato consentito di pagare gli arretrati del bollo auto dal 2016 al 2021 senza sanzioni e interessi i numeri elaborati dai nostri uffici spiega l'assessore regionale all'economia marco falcone confermano il successo della regolarizzazione agevolata delle tasse automobilistiche in sicilia nei soli primi due mesi del 2023 ad esempio la regione ha incassato dal bollo auto ben 155 milioni di euro il 50 per cento in più dell'intero primo trimestre 2022 l'impennata era già partita alla fine dell'anno scorso quando fra ottobre e dicembre avevamo registrato un più 87 per cento di entrate dai 66 milioni del 2021 infatti siamo saliti a un totale di ben 124 milioni di euro falcone aggiunge il governo schifani non esclude di riproporre nei prossimi mesi lo straccia bollo compatibilmente con il quadro normativo agevolando ancora i cittadini in questa fase di crisi sul tema interviene anche il presidente schifani che evidenzia eliminando le sanzioni e alleggerendo gli arretrati abbiamo concretamente teso la mano ai cittadini che volevano mettersi in regola nell'interesse dell'amministrazione regionale a recuperare introiti e a costruire un nuovo rapporto di fiducia con i contribuenti i risultati hanno dato ragione all'iniziativa recuperando al nostro bilancio nuove risorse che potremo reinvestire in servizi e opportunità per la sicilia ripresa sicilia intervento di carmelo pace capogruppo della dc all'assemblea regionale siciliana e del deputato ignazio abbate rimodulare i requisiti di ammissibilità contenuti nell'avviso pubblico ripresa sicilia e quanto chiedono al governo regionale carmelo pace capogruppo dc all'assemblea regionale siciliana e il deputato ignazio abbate in un'interrogazione urgente presentata al presidente della regione renato schifani e all'assessore regionale alle attività produttive ed mondo tamayo pace e abbate si soffermano sul punto 5 dei requisiti per partecipare essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi e assistenziali e non avere in atto debiti erariali evidenziando che diverse aziende in crisi hanno dovuto far fronte ai pagamenti indispensabili per mantenere aperte le attività e scongiurarne il fallimento rimandando di conseguenza il pagamento degli oneri contributivi e assistenziali e sottolineando che molte piccole e medie imprese non sarebbero nelle condizioni di partecipare al bando ripresa sicilia pace e abbate aggiungono che per precedenti provvedimenti di aiuto il requisito del possesso del durc documento unico di regolarità contributiva non veniva neppure menzionato facendo riferimento ai contributi a fondo perduto per le aziende e al loro carattere emergenziale ora in vista dell'imminente scadenza del 15 marzo 2023 per la presentazione delle istanze entrambi ritengono necessaria l'immediata rimodulazione dei requisiti con la massima urgenza cassando il punto 5 per fornire un reale significativo aiuto alle aziende che stanno affrontando un momento di grave crisi Parco Dubini chiuso al pubblico per problemi tecnici nonostante il divieto in molti superano la barra all'ingresso Da alcuni giorni al Parco Dubini vige un divieto di accesso temporaneo al pubblico per problemi tecnici nonostante il divieto le persone scavalcando la barra di ingresso riescano ad entrare al Parco svolgendo le proprie attività fisiche per capire i problemi tecnici del Parco e dunque la sua temporanea chiusura abbiamo provato a condattare la dirigenza dell'ASP di Caltanissetta di cui aspettiamo una loro risposta A Caltanissetta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza annunciate nuove strategie operative per contrastare i fenomeni di illegalità a Gela Il prefetto di Caltanissetta ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per una giornata di esamina della situazione dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica nel territorio comunale di Gela in provincia di Caltanissetta alla luce di una nuova fase di recrudescenza degli episodi criminosi occorsi nei giorni scorsi All'incontro erano presenti oltre al Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza anche il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Gela, il Sindaco del Comune di Gela e il Referente della Locale Camera di Commercio La riunione è stata convocata dal Prefetto allo scopo di ridefinire i contenuti della strategia operativa approntata per fronteggiare le criticità di quel territorio sotto il profilo dell'Ordine della Sicurezza Pubblica in considerazione di alcune recenti vicende che richiedono l'attuazione di misure mirate che siano espressione di un'azione a carattere sinergico In primo luogo il Prefetto ha disposto un'intensificazione dei servizi di controllo straordinario già recentemente rafforzati Gli episodi dell'ultimo periodo dimostrano come da diversi anni il territorio gelese sia ostaggio di danneggiamento a veicoli, abitazioni private e danni ad attività commerciali In questo caso il Prefetto ha sottolineato l'impegno costante delle forze di polizia che nel corso di accurate indagini anche grazie alle immagini acquisite da sistemi di videosorveglianza installati dai privati hanno individuato i responsabili Nella circostanza anche il dottor Calabrese, procuratore facente funzioni presso la Procura della Repubblica di Gela ha ribadito l'impegno costante di tutte le istituzioni per assicurare alla giustizia responsabili dagli episodi delittuosi e ha evidenziato l'importanza che riveste un'azione condivisa contro l'illegalità sottolineando nel contempo l'assoluta necessità che sia portata a completamento il sistema di videosorveglianza come strumento essenziale ai fini della repressione delle attività delittuose A tal proposito il sindaco di Gela ha assicurato che sono stati messi in campo tutti gli sforzi per colmare questa lacuna e ha riferito che entro aprile sarà completata l'installazione delle videocamere A Caltanissetta si è tenuta l'assemblea dei socialisti italiani Nello scorso fine settimana nella sala riunioni di un hotel si è tenuta l'assemblea dei socialisti siciliani in vista degli stati generali del socialismo italiano e qual è il ruolo dei socialisti di oggi All'appuntamento hanno partecipato il segretario provinciale Saverio Ficarra un membro del Consiglio Nazionale Giuseppe D'Antona il segretario regionale Nino Oddo e il segretario nazionale Enzo Maraio Oggi a Caltanissetta riuniamo il quadri del Partito Socialista italiano per vedere qual è il ruolo dei socialisti in una società disgregata come quella di oggi La politica sta attraversando un terribile momento e i socialisti non possono non rivendicare un ruolo importante nella gestione del paese tenuto conto della loro storia che ha lunghi 130 anni e che li ha visti i protagonisti del novecento e si parlerà oggi proprio di questo, del ruolo dei socialisti e questo è l'interrogativo e saremo presenti, mi auguro presto, in tutte le competizioni elezionali siciliane Lo stato di San Pedro Partito è sicuramente di grande entusiasmo abbiamo lanciato sulla nostra prospettiva gli stati generali del socialismo italiano convinti della necessità che in questo paese si ridia un'area socialista strutturata recuperando tutti i vecchi compagni che si erano sparsi in mille rivoli e soprattutto però con lo sguardo rivolto in avanti che oggi occorre aggiornare quelli che sono i nostri valori, i nostri ideali e lanciarli nel presente e soprattutto nel futuro Qui a Caltanissetta c'è un'esperienza straordinaria, una tradizione storica di lunga data di lungo corso che noi vogliamo rinvigorire e in Sicilia stiamo lanciando una sfida di riunire tutti i socialisti sotto la nostra sigla del PSI Su quali temi? Il lavoro, i diritti civili, il tema delle diseguaglianze che stanno aumentando nel nostro paese e soprattutto il miglioramento di qualità della vita delle persone cioè esattamente gli obiettivi per i quali 131 anni fa nacque il partito più antico della storia d'Italia che il partito socialista italiano È evidente che il PSI è la casa di tutti i socialisti e deve tornare ad esserlo ma tanti sono i socialisti che per varie vicissitudini storiche e politiche hanno trovato allocazioni diverse quindi c'è un tentativo di ricomposizione ma la cosa più importante, guardiamo avanti, cerchiamo di ridisegnare il nuovo socialismo del nuovo millennio È evidente che i nostri valori sono sempre attuali la giustizia sociale, la tolleranza, il cercare di portare avanti i più deboli ma va coniugato con le esigenze nuove del nuovo millennio e questa è la sfida e noi oggi siamo qua in Sicilia, a Caltanissetta, al centro della Sicilia per fare un passo in questa direzione Covid nel Nisseno, 21 positivi nell'ultima settimana 11 a Caltanissetta Il Covid continua la sua lieve flessione in provincia di Caltanissetta Nell'ultima settimana ci sono stati 21 pazienti positivi al coronavirus finiti tutti in isolamento domiciliare 11 pazienti nel capoluogo Nisseno 6 di Gela 1 di Butera 1 di San Cataldo 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Vallelunga Pratameno I ricoverati in ospedale con degenza ordinaria sono 3 pazienti di Gela e 1 di Niscemi dimessi dall'adegenza ordinaria invece 3 pazienti di Caltanissetta 2 di Gela 2 di San Cataldo 1 di Niscemi e 1 proveniente da fuori provincia mentre guariti da Covid-19 sono 6 pazienti di Gela 3 di Caltanissetta 2 di Mussomeli 2 di San Cataldo 1 di Marianopoli 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Vallelunga Pratameno Agrigento l'Uzbekistan vince la 75esima edizione del mandorlo in fiora Si è conclusa domenica 12 marzo dopo una settimana di eventi la 75esima edizione del mandorle in fiore di Agrigento il vincitore di quest'anno per la migliore esibizione nella categoria di danze, costumi e canti è stato l'Uzbekistan che ha eseguito la chorus dance inserita nel 2019 nella lista del patrimonio materiale dell'UNESCO i gruppi sono di alta qualità l'organizzazione è perfetta ringrazio anche le forze dell'ordine che ci hanno permesso di poter organizzare questa festa e questo deve essere un punto di partenza il volano per il futuro della nostra città è vero che di qui parte un grido di cultura di pace, di amicizia, di fratellanza ma proprio voglio puntare sulla cultura Agrigento è candidata al capitale italiana della cultura a 2025 questo è il nostro patrimonio materiale e il materiale è quello che noi abbiamo davanti con questo noi dobbiamo cercare di migliorare le sorti agrigentine Agrigento deve diventare una capitale anche europea di cultura Durante la cerimonia è stato consegnato il premio Gigi Casessa del gruppo francese Ballet de Savoie per aver rappresentato in modo originale l'espressione folkloristica il gruppo dell'India ha ricevuto il premio Costa del Mito per aver svolto un ottimo lavoro nella promozione turistica del suo territorio Quest'anno ho oltre 90.000 presenze quindi da qua si capisce l'importanza internazionale che ha questa festa la festa del Mandor oggi è la 75esima edizione per noi è un evento davvero importante per la Sicilia non solo per Agrigento per cui questa manifestazione è stata già inserita nell'elenco delle manifestazioni di rilievo dell'assessorato al turismo bisogna ovviamente continuare a programmarla negli anni lo si è fatto ma lo dobbiamo fare ancora meglio probabilmente perché è davvero dalla Sicilia ad Agrigento attraverso questa festa arriva al mondo un messaggio importante il messaggio dell'amicizia il messaggio della pace e il messaggio è quel messaggio dello scambio culturale tra popoli Applausi per Gianfranco Iannuzzo al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta Giovedì 9 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è andato in scena a Resital di e con Gianfranco Iannuzzo lo spettacolo ha evidentemente soddisfatto le aspettative positive del numeroso pubblico presente che con risate e applausi ha dimostrato ad aver gradito la performance e le scelte artistiche messe in scena da Iannuzzo divertenti aneddoti ottime capacità artistiche l'utilizzo di diversi dialetti e tra questi il nostro siciliano sono state le carte vincenti durante lo spettacolo anche momenti di riflessione sui diversi comportamenti e atteggiamenti degli italiani abitanti in diverse regioni emozionante la dichiarazione d'amore per la Sicilia in particolare per Girgenti Agrigento città nativa di Iannuzzo durante Resital Iannuzzo ha più volte raccontato anche aneddoti a lui accaduto a Caltanissetta che ha definito città molto ospitale ho l'esigenza di misurarmi ogni tanto da solo con il pubblico perché così gli puoi raccontare dalla barzellettina per cui non solo non ho nulla contro ma faccio una specie di elogio della barzelletta alle cose e ai sentimenti veri che noi siciliani abbiamo nel cuore quindi accanto a questa sera si parlerà del mare di che cos'è la donna di che cos'è l'attraccamento che abbiamo per la nostra città Caltanissetta perché siamo qua o la mia Agrigento o la Milano di mia moglie si parla di argomenti molto diversi fra di loro ma proprio perché sono così diversi finiscono proprio per interessare il pubblico lo dico senza nessuna presunzione ma anche con un grande orgoglio da siciliano e da italiano io sono innamorato degli italiani perché tutti volevano conquistare è un po' come la metafora della Sicilia tutti volevano conquistare questo giardino meraviglioso della Sicilia nessuno ci è riuscito a conquistarla e noi siciliani siamo riusciti a prendere il meglio dai francesi dai greci dai romani dai turchi dagli arabi e così è successo per l'Italia quindi sono innamorato degli italiani calcio domenica il Catania al Tomaselli i rossazzurri affronteranno il Canicatì con l'obiettivo di conquistare la promozione matematica in serie C Canicatì Catania al Marco Tomaselli manca solo la conferma ufficiale che arriverà tra poche ore e poi partirà la calcia al biglietto per assistere alla gara che può sancire il ritorno della squadra rossazzurra tra i professionisti infatti con la vittoria di ieri al Massimino sancita dal rigore del capitano Cicciolodi a sette giornate dal termine al Catania manca solo una vittoria che potrebbe avvenire domenica al Tomaselli contro il Canicatì a meno che il Locri che dista dal Catania di 20 punti non si faccia male da solo si aspettano migliaia di tifosi provenienti da Catania per questo match point che la società del presidente Ross Pelligra non vuole fallire fine settimana intenso per lo stadio nisseno che ospiterà il sabato anche l'incontro casalingo della Nissa contro il Don Carlo Misilmeri Serie D la San Cataldese ottiene un punto in trasferta finisce 0-0 la sfida contro il Ragusa Continua la striscia di risultati utili consecutivi della San Cataldese che torna da Ragusa con un prezioso pari grazie allo 0-0 dello stadio Aldocampo una partita in cui i Verdamaranto hanno blindato il risultato riuscendo a portare a casa un punto che dà continuità alla vittoria contro il Trapani e mantiene a distanza di sicurezza la zona calda della classifica intanto il Catania vede la promozione grazie alla vittoria di misura contro la Cittanovese la caduta dell'Ocri in casa con il Paternò avvicina la società rosso-azzurro alla Serie C intanto la San Cataldese con 38 punti e la settima posizione flerta con la zona nobile della classifica a otto lunghezze dalla fascia play-out questi i risultati della ventisettesima giornata del girone I di Serie D Trapani-Realla Versa 1-0 Locri-Paternò 0-1 San Luca-Città di Acireale 1-0 Mariglianese-Città di Sant'Agata 3-3 Vibonese-Canicattì rinviata per Nebbia Catania-Cittanovese 1-0 Licata-Lamezzia Terme 1-1 Santa Maria-Cilento Castrovillari 2-2 Ragusa-Calcio-San Cataldese 0-0 Classifica Catania-72 punti Locri-52 Città di Sant'Agata-49 Trapani-42 Lamezzia Terme-42 Licata-41 San Cataldese-38 Vibonese-35 Santa Maria-Cilento-35 Canicattì-34 San Luca-32 Castrovillari-30 Ragusa-30 Città di Acireale-28 Realla-Versa Paternò-27 Cittanovese-24 Chiude la Mariglianese A 18 punti Vibonese-Canicattì Una partita in meno Eccellenza Nissa Abbattuta Dalla capolista Enna Al generale Gaeta Decide un gol Di Cocimano Su calcio di rigore Un rigore di Cocimano Al sessantesimo Del secondo tempo Condanna la Nissa Alla settima sconfitta Su dieci gare Giocate in questo Girone di ritorno Partita contratta Con ambe due le squadre Che hanno giocato Con la paura Di lasciare punti Importanti per strada Alla fine L'hanno spuntata I padroni di casa Che con questa vittoria Sui biancoscudati Approfittando Del pareggio Dell'Akragas Sono da soli In testa Alla classifica Con questa sconfitta Gli uomini Di Alessio Sferrazza Rimangono sempre In una posizione Di classifica A rischio Con sole tre lunghezze Dalla zona play-out Aspettando La prossima gara Del Tomaselli Contro il Don Carlo Misilmeri Gara che probabilmente Si giocherà Sabato 18 Per dare spazio Alla sfida Di Serie D Tra Canigatti E Catania Intanto L'imprenditore Luca Giovannone Con una nota Dalla pagina Facebook Della società Ha rinquirato La squadra Dopo la sconfitta Del generale Gaeta Invitando tutti i tifosi A venire alla partita Di sabato prossimo Per sostenere la squadra E conquistare Punti salvezza Annunciando anche La sua presenza Eccellenza Girone A 25esima giornata Castellammare Acragas 1 a 1 Don Carlo Misilmeri Mazzara 2 a 5 Enna Nissa 1 a 0 Nuova città di Gela Oratorio San Ciro e Giorgio 1 a 1 Profavara Sciacca 1 a 0 Resuttana Leonfortese 3 a 1 Mazzarese Parmonval 7 a 0 Cus Palermo Casteldaccia 3 a 1 La classifica Enna 61 Acragas 59 Profavara 54 Don Carlo Misilmeri 47 Mazzarese 44 Mazzara 42 Sciacca 38 Casteldaccia Nissa 28 Oratorio San Ciro e Giorgio 26 Castellammare Leonfortese 25 Resuttana e Nuova città Di Gela 23 Cus Palermo 22 Chiude la Parmonval a 8 Basket Serie D Gara 2 Playoff L'Invicta vince Sant'Agata e vola in finale L'Invicta Basket Sbanga il parquet del Sant'Agata per 61 a 72 vincendo anche gara 2 delle semifinali playoff e vola in finale dove ad attenderla ci sarà il capo Basket che ha avuto la meglio sulla zannella Cefalù È stata l'ennesima vittoria stagionale per i gestisti nisseni che continuano a macinare record su record e che adesso dovranno mantenere alta la concentrazione per questo entusiasmante finale di stagione Basket Serie D gara 2 delle semifinali playoff Capo Basket Zannella Cefalù 93 a 61 Sant'Agata Invicta 61 a 72 Siracusa Basket Sporting Adrano 59 a 66 Sales Catania Masca Lucia 88 a 63 Il Cusn esce sconfitto dallo scontro al vertice di Ragusa contro l'Olimpia I gestisti nisseni hanno combattuto per tutti e quattro i tempi ma alla fine hanno dovuto cedere alla squadra ragusana per 64 a 54 Adesso per la Cusn ci sarà una settimana di riposo in cui l'Olimpia potrebbe approfittarne per scappare di più in classifica dalla formazione nissena Basket promozione girone D quarta giornata del terzo turno Olimpia Ragusa Cusn 64 a 54 Salusport la Fenice Priolo 69 a 49 riposa nuova città di Gela la classifica Olimpia 18 Cusn 16 Salusport 12 nuova città di Gela 10 chiude la Fenice Priolo 0 Volley Serie B2 Femminile Alba Verde Quinto successo consecutivo Quinto successo consecutivo dell'Alba Verde che confermando il pronostico della vigilia si impone con un netto 3 a 0 sulla Stefanese Dopo il successo di Torretta le pallavoliste nissene davanti al pubblico amico viaggiano sulle ali dell'entusiasmo e nonostante qualche problema di formazione si sono imposte sulla Stefanese in meno di un'ora di gioco adesso testa il prossimo match che vedrà di scena l'Alba Verde a Comiso contro l'Arden per cercare la sesta vittoria consecutiva noi ci saremo sempre fino all'ultimo poi vedremo cosa succede proveremo a vincere tutte le partite poi alla fine si vedrà il risultato noi abbiamo provato un po' di cose che servivano loro erano a mio parere un pochino demoralizzate anche se con Torretta hanno preso punti una bella squadra noi abbiamo fatto la nostra partita e basta abbiamo giocato bene non abbiamo giocato praticamente al di là del valore dell'avversario è sicuramente fuori portata per noi però tanto rammarico perché quando siamo stati con la testa nella partita e abbiamo messo attenzione in difesa abbiamo giocato un set alla pari ripartiamo da quel set alla pari primo e terzo set terribili atteggiamento completamente sbagliato al di là ripeto che tra le due squadre c'è un divario evidente che la classifica lo dimostra volley serie B2 girone M diciannovesima giornata Albaverde Stefanese 3 a 0 Cus Catania Fideri Storretta 3 a 2 Funivia Etna Planet 3 a 0 Pallavolo Crotone Saragena 3 a 0 Volley Region Gioiosa 0 a 3 Zafferana Bricositi 3 a 0 Procori Ricina Arden Scomiso 3 a 2 la classifica Zafferana 50 Pallavolo Crotone 47 Albaverde 46 Procori Ricina 41 Fidelis Torretta 37 Gioiosa 36 Cus Catania 35 Funivia Etna 27 Saragena 25 Volley Region 21 Bricositi 13 Stefanese 9 Arden Scomiso 8 Q The Planet 4 E' tutto Vi lascio al meteo Alle informazioni Di pubblica utilità Grazie per l'attenzione Appuntamento rinnovato Le prossime edizioni Bentrovati A un aggiornamento Con le previsioni Per la giornata Di martedì Cambia tutto Arriva la pioggia atlantica Possiamo notare Da questa immagine Di fatti Come si scaverà Un minimo di bassa pressione Sull'Italia Alimentato d'aria fredda Instabile Dall'oceano atlantico Quindi Piogge In transito Sulle nostre regioni E la neve Sulle alpi In sintesi Quindi la mappa Zoom Precipitazioni Mediterraneo Possiamo notare Una giornata piovosa Per il nord E la Toscana Ma dal pomeriggio Fenomeni sparsi Sulle regioni centrali E in serata Via via Anche il basso Versante Tirrenico In sintesi Quindi una giornata Incerta Chi prima Chi dopo Al centro nord Vedrà precipitazioni Piogge Qualche anche Temporale E la neve Sulle alpi Per quanto riguarda il sud Fenomeni in arrivo A fine giornata E poi Mercoledì Con 20 tesi Di maestrale Tutti i dettagli precisi Scaricando L'app gratuita Vedetevi meteo O visitate gli articoli Sul nostro sito web Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Messana Viale Conte Testa Secca Servizio notturno Pasqualino Via Xiboli Villaggio Santa Barbara Sopra Farah Grazie a tutti.